ciao a tutti questa sera vorrei svegliare con voi diciamo alcune pagine di questa rivista psicologia donna con i psicologi in generale chiedo scusa intanto per le mie onghe ma non ho fatto il modo generale direi di iniziare subito a svegliare questa rivista con voi psicologia donna la guida che ti fa parlare con le tue parole consigli pratici per imparare a vivere i problemi come risorse e opportunità di crescita agisci, metti in pratica il cambiamento paura, sezioni, complessi, affronta impara a non essere perfetta trova i tuoi equilibri supera i tuoi problemi questa è te sarai prossimamente ridicola dopo questa rivista di psicologia con relax promoterapia disegnistico novità a vincere lo stress curato e può essere anche un'idea 7 trucchi per un'abitazione a rumore per un donno trucco proprio psicologia donna insomma sommario dice a pagina 5 trasforma i problemi in opportunità prima regola prima regola prevenzione esiste a pagina 6 testa complessi pagina 14 affrontiamo la pagina 18 quando la pagina 18 quando la pagina 24 se il problema è una tendenza pagina 28 per ogni problema è una strategia pagina 34 trasforma i problemi in opportunità vedete di Nicoletta travagini psicoterapeuta perchè sono tutti tutt'omori psicoterapeuti che spiegano e parlano di questi argomenti prima regola la prefezione non esiste poi sotto nei triangoli ci sono i buoni problemi qualche cosa è perfezionissimo perfezionismo la perfezione razionale ci dimentichiamo di essere 10 tipi di perfezionismo o sotto in basso dice Albert Ellis è fondatore della reazione emotiva bio-therapy considerato per questo terapia razionale emotiva e terapia cognitivo comportamentale è stato valutato dell'associazione di psicologia statunitense che è una dei 3 più grandi psicoti europei del XX secolo io vedevo che per scusa si sentite delle parole strane ma non molto probabilmente poi c'è la persona perfetta ricordiamoci qua potremmo anche fare test prossimamente magari potremmo leggere tutto stasera se avete voluto test sono una vera perfezionista qua ci sono i punti e qua vediamo i risultati basta con complessi si tratta di complessi di ogni tipo per esempio Peter Pan cineretola e tipo e lettera per esempio la sigma di Peter Pan complesso no diciamo che è complesso di Peter Pan ne soffre e si comporta ancora come un bambino non vuole crescere non accetta la responsabilità e preferisce considerare la vita come un gioco che c'è condetto di cineretola ne soffre chi pensa che dopo essere stata aiutata la propria famiglia migliora la propria situazione familiare ed economica una persona che è complesso di tipo tipico che si studia in psicologia evolutiva ne soffre l'uomo che paragona tutte le donne alla propria madre in tutta la sua vita c'è una donna che le assomiglia quando si concede che non è come lei la lontana e poi c'è l'ultimo complesso che il complesso dilettra ne soffre la donna che non trova mai l'uomo adeguato adora il proprio padre e lo vede come un segno di virtù ha difficoltato qualcuno che possa essere praticamente l'opposto da complessi di tipo maschile e poi parlo pronto del Dura c'è un aforisma che l'ha scritto romano battaglia conte fiore del Durgentino ma e le folli che cadono sopra i miei complessi io vorrei stasera iniziare da questa pagina solo per i miei problemi affrontiamo le paure dato che non le ho paure la paura è una reazione emotiva di fronte a una minaccia reale o anche insomma possibile ma questo meccanismo difensivo che ci aiuta a sopravvivere in molte circostanze della vita si trasforma in una stagione viva quando diventa irrazionale esagerato e controllato sottofondi l'angolo ci sono sempre buoni proponimenti che dice oggi ricordo che le povere si garantiscono scappando ogni settimana cercano mia paura anche piccola all'inizio io ogni giorno provo a mettere in campo dei piccoli vicinamenti e giocami sperimenti pian piano la dimensionerò e saprò superare la mia eccoci qua la paura è un'emozione in relazione a un pericolo reale o possibile che perturba i rumori la fobia è invece una paura irrationale controllata una persona un'attività che determina il sito inferiore di fuggire il panico una crisi acuta e un'impevisa angoscia causata da qualcosa di indeterminato che ci culpisce ci fa pensare di morire e pazzire tra la paura e il panico c'è una grossa differenza che separa la normalità dalla patologia sentire paura è una reazione normale un'emozione istintiva è necessaria che serva a porteggi dei pericoli e pertanto ci aiuta a sopravvivere si verifica quando sentiamo una minaccia quando prevediamo che si sta percorrere lontano nel futuro immediato quindi suona allarme rossa il corpo intero riuscire come per evitare una paura normale ad esempio quando sentiamo che qualcuno ci spaventa perchè ci spaventiamo ciò che teme la maggior parte delle persone lascia da quelle altre il chione lo spaventa il tomatore il fuoco un terrorista il pompiere e un bianchinae un bianchinae un bianchinae un bianchinae il motivo è chiaro essi sono preparati ad affrontare la paura e la conoscono bene che cosa si può dedurre da ciò che non sono gli eventi esterni a creare paura ma ciò che la gente pensa di loro e soprattutto la misura delle nostre capacità di affrontarlo può derivare dalla famiglia la paura cronica nasce in casa le circostante più comuni sono il padre della madre hanno un arsenale di ansia paure preoccupazioni ossessioni che trasmettono al bambino il bambino è stato certo di una malattia o di un piccolo problema fisico avuto a che fare con una persona fragile sempre bisogno di aiuto e cura e protezione la famiglia gli ha impedito di rimanere solo per diversi motivi perché uno dei genitori desiderava la sua compagnia senza ammetterlo perché confondeva la solitudine con l'attrezza e la nonna ovvero un sentimento esagerato di unità mondiale non diventare mai un pessimista un pessimista ragioni più spesso più ottimista ma l'ottimista si diverte di più e nessuno di due può fermare i corsi degli eventi questo lo dice Robert R. Arlen è legito per paura secondo gli esperti tutti sperimentiamo la paura per qualche fase della nostra vita può essere in gioventù nel tempo dobbiamo aggiuntare delle responsabilità quando vediamo affinanzi le occhiaie la paura è una parte della vita universale finta fin ci educano ad aver paura quando ci dicono che dobbiamo essere coraggiosi il nostro cervello processano darsi di informazioni contraddittorie e reciprocamente scusate avere in mente come attento stai per cadere con ordine di tipo non avere paura e coraggio quanto per dire a uno o l'altra scegliamo di essere attenti o coraggiosi mascherati da spiriti colate nessuno ci insegna che lei ci dovrebbe andare quando siamo pronti a sforrare gli stessi verso un pericolo nessuno ci dice di dubito per il mento fanno parte della vita che ci confliscono dignità non proviamo ad eliminare le paure gli esperti dicono che le paure non possono essere eliminate con la volontà guardare altrove non serve a nulla si curano trasformando le parole e ammettendo la loro esistenza per questo motivo si dovrebbe cercare di conoscere essere consapevoli della loro esistenza senza ignorarle sforzandoci di sapere quali è il messaggio che ci hanno trasmesso questo fa di noi persone fidabili sensibili coraggiosi Kevin Jabacher psicoterapeuta autore del libro di tutta la pubblica insegna ad affrontarlo in due modi in due modi in due modi di fatto temere che qualcosa è la prova che questo è una fe quando siamo solo di un abisso possiamo provare paura se ci avviciniamo troppo quindi non lo facciamo due ciò di cui abbiamo paura non è mai quello che pensiamo di temore se ci guardiamo e guardiamo indietro possiamo scoprire il temore la paura di parlare in pubblico e la paura di non fare bella figura ascoltiamo i suoi messaggi la paura è sempre una nemica no a volte non provarne una follia o un errore fatale se non è l'istinto di sopravvivenza che controlla le nostre azioni e le azioni potremmo commettere un errore la paura è un amico che ci obbliga a superare questo tempo difficile un messaggero che avverte agisce con attenzione con gli preservati vai avanti o accetta un nuovo stifo da rispettare le informazioni che ci dà ci proporre dei vantaggi e anche panico un un rimpaggio immaginario d'attacco di pane colpisce tra l'unito e la gente della popolazione è un episodio di angoscia e di ansia provocato da qualcosa di un indeterminato spezzo una famiglia che fa pensare di morire di impazzire Kevin Buck oltre a essere uno scrittore e uno specialista in problemi di sicurezza ha prestato la sua conferenza al governo degli Stati Uniti dell'America e ha collaborato con grandi aziende per le mani pubbliche viene definito come esperto di previsione di gestione dell'inferenza rafforzo il mio valore scrivo un breve elenco di ciò che desidero ottenere da qui a un anno e lo petto in un luogo visibile per poterlo leggere ogni giorno in un modo infelibile per ottenere ciò che voglio in oltre giornato giorno per giorno i miei desideri sarò capace di superare le paure che mi impediscono di fare ciò che desidero carta e penna quando i miei progetti si protaggono troppo lungo nel tempo prendo fuori gli scrittori che dovrei compiere idealizzo tutti uno per uno eliminando dalla lista ciò che sono riuscita a compiere fino a ogni cosa sull'elenco non anticipo le conseguenze evito di immaginarmi dei risultati catastromici se dovesse cadere qualcuno ricordo me stessa che è un caso raro 3 cerco il positivo scatto i dettagli negativi che accompagnano la situazione cerco un gioco nuovo i calvucci che può comportare non guardo le cose negative e molti tipico voglio positivo do coraggio rischio rischio quando ho bisogno di mostrare mia forza lasciare la mia intuizione sostituisci il pensiero razionale la prima mi guida la seconda potrebbe interrompere la mia azione non esagero non mi impongo traguardi raggiungibili che mi possono paralizzare per la loro complessità ovviamente di sconti e di servizio per le piccole cose 6 bisogno occhi aperti immagini condividere chi incontra i possibili risultati positivi 10 penso come migliorare la mia vita 7 comunico le mie paure mi raccomando il tumore non mi incusaggia una persona di cui ho fiducia la sua opinione mi aiuterà a verificare se questi testimoni sono giustificati 8 mi fitto e non visto le persone mi ripeto il tumore che mi rendono a curare da pombo la mia fiducia le persone mi riscontano anche quelle che non capiscono molto mi sorprendono positivamente esagio negativo penso di esagio negativo qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere mi immagino in quale si riconosce conoscita alternativa solitamente in modo da continuare a girare in qualsiasi caso trasformo non posso e lo sostituisco con non voglio la prima affermazione mi nasce potente mi dita la seconda mi rende responsabile mi incita da giro morire in qualsiasi piccoli appunti cominciò da qui quale è il mio desiderio più appellente penso mentotivo poi si parte in cui uno può scrivere quello che provizza di adottare un momento per liberare proprio l'opera poi ci sono delle fobie le fobie più comuni io inizio a diseguire praticamente leggere poi se avete voglia potremmo approfondire questo argomento più avanti allora le fobie più comuni le relazioni fobiche tendono a verificare persone che soffrono di ansia generalizzata e persone simili con una tendenza a preoccuparsi per bocure di tutti i tipi fobie sociale insieme all'estate più semplici dei contori alle istituzioni sociali e persone si sente asservate a tutti i casi da altri e sperimenta la bocca nazionale situazione del suo comportamento mercato consulato rispito agrofobia e la bocca di bocure portate o i suonati lusso aperti colpisce tra i 5 uomini dopo un'anzione queste persone devono essere troppe prevenzioni demiziose agrofobia e la bocca di solare colpisce una persona che dice queste persone ritengono che il mio che sarà fatale nonostante esattamente gli uomini siano più sicuri di direzioni automobili neofabili al senso del minaccio del minaccio del futuro le nuove tecnologiche le malattie le nuove relazioni sociali in generale una coscia e colori che hanno buono del cambiamento questa persona ha avuto qualsiasi prevenzione delle proprie consuetudine come un minaccio per la stabilità contro dell'immunicazione quindi porce adeggiano le robine e le frosse svalaggiosa affrontiamo le nostre timori tanti come sia la paura diventa ossessione caratteristiche dell'ipocondria quindi spiega tutte le caratteristiche che ha un'ipocondria come si esprime come si esprime con un violetto l'ipocondria ma c'è infatti c'è il tratto dell'ipocondria con diversi gradi dell'ipocondria come possiamo aiutare chi ne ha detto o psicoterapia aiuti naturali partecipazione basta con le sessioni amoni poi c'è si problema la dimidenza quindi in causa della dimidenza liberiamoci dai casci distrutti come ha fatto la dimidenza ci sono mozzi il ritmo il problema ogni problema è una strategia quindi mi annoio molto la loro mi trovo un uomo mi preoccupano mi ricordo emozionalmente mi muore stauralmente non riesco a termino sono sempre una risposta per me come reagisco in panico con un frutto una perdita rotta a pezzino per me diciamo se per voi può essere interessante potremmo più quanti continuare insieme a leggere questi argomenti di materia mentalitica molto attuario adesso ci siamo qua però oltre ovviamente chiedervi scusa per le domeniche ci tenevo a dirvi quindi a invitarvi che se avete delle richieste potete scrivermene tranquillamente sotto il commento e proprio in merito questo voglio ringraziare proprio ringraziare con il cuore e sinceramente persone che non menzionerò persone che seguo persone nuove che ringrazio con il cuore dei loro commenti che mi hanno fatto tantissimo piacere sono stata contentissima quando ho visto i loro commenti e dei nuovi iscritti vi dico vi dico già che diciamo che penso che la fine di questa settimana se ce la faccio ho già in vista un roleplay da fare per voi per voi e per me perché come dico sono contenta e lo faccio per voi se la mia voce mi può rilassare ma anche per me perché scarico tutta l'altra linea mi sento molto più rilassata infatti diciamo che attenzialmente io faccio sempre video a un'ora serale se non addirittura di notte anche per questo diciamo per questo video lasciatemi sui commenti le vostre opinioni ditemi se ti è piaciuto oppure se vi siete annoiati vi investi in tutto così per ora è tutto quindi vista l'ora almeno per voi vi auguro una bellissima buonanotte ci vediamo prossimamente ciao